Senecaro venite a tagliare lì sotto, dovete uscire! Dovete uscire! Dovete uscire! Dovete uscire! Dovete uscire! Dovete uscire da là sotto! Se sta avvicinando un copolo, se ne c'è un soffitto! Avvicinatelo! Dovete uscire! Dovete uscire! Dovete uscire! Dovete uscire! Se stai facendo! Dovete uscire! Se stai facendo! Come... Vieni! Chi si sta facendo? Bisogna! Grazie a tutti.